Patrice Papateu, mi può un po' raccontare il progetto che sarà presentato oggi in Sala Nassiria? Un progetto bellissimo, di cui sono molto orgogliosa perché sono siciliana e finalmente parliamo in chiave positiva e non più in chiave negativa, ovvero parliamo dell'area ex Fiat di Termini Meresi che oggi rivivrà un nuovo rinascimento grazie all'intuizione di Meccatronica che ha creato un ecosistema all'interno della quale più aziende insieme si riconvertiranno, rilanceranno quelli che sono oggi le produzioni ma con una nuova formula che è quella dell'ecosostenibilità, quindi avremo aziende che si occupano di ibrido, aziende che si occupano di riconversione dei sistemi di produzione ecosostenibili e addirittura abbiamo anche un'acciaieria che sarà la prima in Europa verde. Grazie